Uno sconto che va da un minimo di 40 ad un massimo di 90 euro per le famiglie con difficoltà economiche. Anche per il prossimo biennio è stato rinnovato il bonus idrico provinciale, una misura che riguarda i nuclei familiari con ISEE fino a 18 mila euro. Sì, in linea di massima noi abbiamo fatto tesoro della sperimentazione cominciata nel 2017 con il consigliere delegato Emiliano Scolè e sulla base di quella sperimentazione abbiamo cercato di rimodulare i criteri di attribuzione di questo bonus idrico. Un lavoro seguito direttamente dal nuovo consigliere delegato Amato che si è reso parte diligente nel promuovere una intesa con le organizzazioni sindacali che prevede l'ampliamento della platea potenziale degli utenti che possono avvalersi di questo buono. 800 mila euro la somma stanziata dalla provincia per il prossimo biennio. Nel 2018 avevano beneficiato del bonus idrico 1.524 utenti mentre per il 2020 e il 2021 la misura potrebbe interessare un massimo di circa 8 mila famiglie. Le fasce interessate secondo il reddito ISEE non è più una soltanto ma sono quattro. A secondo ovviamente del reddito ISEE è previsto il riconoscimento di un'agevolazione tariffaria che va da un minimo di 40 euro fino a un massimo di 90 euro a secondo ovviamente anche del nucleo familiare. Diciamo che abbiamo riproposto questa opportunità perché riteniamo in un momento come questo di andare incontro alle famiglie che versano in condizioni di particolare bisogno. L'abbiamo fatto con un'attenzione al reddito ISEE ma anche ai componenti del nucleo familiare. Quindi un segnale, un gesto concreto dell'attenzione con la quale la pubblica amministrazione, in questo caso la provincia, vuole andare incontro a situazioni di difficoltà economica.